ciao a tutti e benvenuti nel canale come sapete non tratto solitamente sfide di fortnite molto molto semplici da completare cioè sfide scontate tipo fai eliminazioni a che ne so sabbie sudate curati a pantano palpitante perché comunque sono sfide che tutti possono completare perché i luoghi sono riportati sulla mappa però questa sfida voglio comunque riportarvela perché voglio darvi un piccolo suggerimento un consiglio un trucchetto che probabilmente molti di voi conoscono per completare la sfida di raccogliere o meglio di ottenere scudi a pantano palpitante quindi venite qui a pantano palpitante possibilmente in modalità rissa squadra in modo che avete già dei materiali dopodiché dovete raggiungere questa camera quindi non dovete impazzirvi più di tanto a cercare gli scudi venite qui rompete questo coperchio vi tuffate vi immergete e fate un lavoro di questo tipo in questo modo diciamo il simpaticone di turno non viene a rompervi le scatole rimanete qui a mollo fino a quando non arrivate a 100 e la sfida è completata grazie a tutti